... Che c'ha paura lei? Il cane a combattimento Il ghiato da combattimento Grotte, sciocchi o stai. Italia 1. Metropoli sbrucia. Non c'è scampo da quello che sta percorrendo. E troppo mi lascia la terra. Per farmi accosti. Quindi è murio. Clark è stato esiliato. Vieni qua. E deve riuscire a tornare. E guardare, corri, pare! In prima visione Italia 1. Smallville, la sesta stagione. Giove di 21.10. Vabbè. Classica posizione della stampa. Mi abbraccio io. E vieni. E vieni. E' fatto prende. E' fatto prende. E' fatto prende. E' fatto prende. Vabbè. E' una trasforma di un vero Power Ranger con Intercomask. Le marzioni. Le marzioni per unicare in segreto con gli amici. Power Ranger. Le marzioni. Peppa. E' un vero Power Ranger con Intercomask. Da zica. Salta nel time trasfaccio con Cybercar. L'ultimo spagato. Vieni da prendi. Non sopravvivate. Le mozioni. Ma per la salta car. E' solo Cybercar G. E' un vero Power Ranger con Intercomask. 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 E' un vero Power Ranger con Intercomask.